Telecamere di Rossini TV che si accendono al Misano World Circuit Marco Simoncelli l'autodromo di Misano Adriatico che per due giornate è stato teatro di un evento automobilistico ad uso esclusivo della Sport and Safe Driving School di Gianluca. Di Fabio in pista qui a Misano, BMW, Porsche, Ferrari, autoveloci per una guida sportiva da coniugare alla sicurezza. È un evento automobilistico che abbiamo organizzato ormai da qualche mese, ben organizzato perché abbiamo tantissime macchine, è una giornata dedicata all'automobilismo vero e proprio dove ci sono gli amatoriali e i piloti professionisti. È una cosa organizzata a livello professionale fatta in maniera tale che tutti possono girare in pista, quindi da quello che non ha esperienza a quello che ha esperienza. Sì, noi praticamente siamo una scuola di pilotaggio e scuola di guida sicura che è sita in Pesaro e che fa formazione sia di guida sicura per aziende che guida sportiva per i futuri piloti, diciamo, quello che possono andare a fare in pista anche ragazzi giovani, ragazzi che ne ho patentati, diciamo. Un evento di successo che ha radunato in pista piloti amatoriali o più scafati provenienti da ogni parte d'Italia, dalla Lombardia alla Puglia fino anche ad appassionati locali. È stata un'esperienza bellissima, una bellissima giornata, abbiamo girato grazie appunto all'esperienza offerta dall'azienda Marinelli e ringrazio tutti quanti, anche gli istruttori molto disponibili a comprendere appunto la pista e il come guidare, insomma. Esatto, noi abbiamo anche la possibilità di dare a noleggio, sempre con un istruttore professionista, le auto a persone che vogliono avere un primo impatto nell'ambito motoristico, quindi dal semplice ragazzo che va a scuola, diciamo che ha compiuto 18 anni, fino alla persona che ha 60 anni, che vuole provare, 70 anni, che vuole provare l'esperienza in pista con macchine molto veloci, che sono BMW, Ferrari e Porsche. Oggi abbiamo più di 50 persone che sono venute un po' da tutta Italia, anche fuori, per poter fare questo track day qua da noi e siamo molto contenti dell'affluenza perché abbiamo anche tanta varietà tra Porsche, Ferrari, anche tanti BMW M, Lotus. Oggi abbiamo avuto anche molti principianti che sono venuti per la prima volta da noi in pista, però anche se non sapevano magari benissimo come stare in pista, i nostri istruttori li hanno affiancati per spiegare tutte le dinamiche, tutte le regole anche del stare in pista, per il fattore soprattutto sicurezza e le traiettorie da seguire per quando girano. Ci spostiamo oltre a Camisano anche altri circuiti che sono Mugello, Imola, Monza e Vallelunga che sono i nostri principali circuiti e riusciamo a fare un po' un itinerario completo di tutta Italia.